Musica Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sportiva di Antenna Sud. In apertura parliamo del basket perché continua a non sbloccarsi la Epicasa Basket Brindisi che ha sfiorato la vittoria ma è caduta nel finale in occasione della prima giornata di FIBA Europe Cup contro Saragozza. Epicasa Brindisi sconfitta anche all'esordio nella FIBA Europe Cup, mescia a testa alta dal campo. 91-87 in favore del Casa de Monza-Ragozza dopo 40 minuti ed un tempo supplementare. Coach Corbani deve rinunciare ancora a Senglin e Sneed con quest'ultimo presente comunque in panchina nei 12 convocati. Il primo quarto vede bene Brindisi con Morris e Mitchell che si alternano in cabina di regia e Risma nel ruolo di ala piccola. La coppia ed americani produce gioco e punti con i biancazzurri che trovano il primo vantaggio. Per gli spagnoli C'è Megano che è buon feeling col ferro e il Casa de Monza riesce a trovare il sorpasso sul finale di frazione col vantaggio minimo alla prima sirena 30-27. I due allenatori fanno ruotare molto le panchine, più lunga quella spagnola che sotto canestro può contare sul più esperto Watt. Morris con Baillet e Mitchell continuano a lottare su ogni pallone, non da meno l'Aseschi e la Quintana, ma l'Epicasa perde troppi palloni in fase offensiva con gli spagnoli che ne approfittano riuscendo a scrivere il massimo vantaggio alla pausa lunga 47-39. Nella ripresa per il Casa de Monza un instancabile Heinz e una spina nel fianco per la difesa della New Basket e con penetrazioni e tiri dalla media tiene avanti la sua squadra. Per i padroni di casa c'è Capitan Johnson che gioca molti palloni dalla media con Risma che si sbatte in difesa. La musica però non cambia con Saragozza che al trentesimo conduce 61-54. Nell'ultimo quarto l'Epicasa trova però le energie per reagire, difende con un'intensità incredibile passando in vantaggio a 2-20 dal termine. Il match torna in perfetto equilibrio e sull'81 pari Morris ha il pallone della vittoria ma fa la scelta sbagliata andando uno contro uno e sul cambio difensivo si trova Kravic che lo stoppa. Il supplementare è di marca spagnola con Heinz che prende nuovamente confidenza col ferro e Giusta che tira fuori tutta la sua esperienza. Al sonno della sirena, nonostante la sconfitta, applausi per staff tecnico e squadra della New Basket con la consapevolezza dei supporters che questo team può giocarsela anche con le formazioni più blasonate. Neanche il tempo di smaltire la sconfitta di Coppa che già bisogna pensare al campionato. Domenica, gara difficile in trasferta. Nel palla a barbuto di Napoli c'è la Gevi di coach Milicic. E adesso ci andiamo ad ascoltare le dichiarazioni rilasciate nell'immediato post partita da coach Fabio Corbani. La squadra aveva grandissimo desiderio di vincere. Con le energie recuperate in settimana abbiamo finalmente visto la squadra correre in allenamento come eravamo abituati a vederla e questo credo si sia visto in campo. Poi i ragazzi hanno messo un desiderio di vittoria su ogni situazione difensiva, offensiva e anche a rimbalzo, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo concesso qualcosa nel primo tempo dove abbiamo perso cinque rimbalzi offensivi quando ci siamo messi a zona e tra l'altro gli abbiamo fatto sbagliare cinque tiri. Lì poteva essere un momento per ripartire in contropiede e provare a breccare la partita. Però poi ci siamo messi a posto nel secondo tempo e la partita di Giovangiane è anche la fotografia di come la squadra abbia meglio mosso la palla e si è andata a cercare dei vantaggi cosa che ci è mancata e di cui eravamo molto preoccupati o perlomeno avevo sottolineato preoccupazione nella partita precedente in casa. Sconfitta a parte è un importante recupero fisico e mentale e questo conto in vista del derby di Napoli. Assolutamente sì, la sconfitta ovviamente non ci fa nessun piacere però lo scarto è minimo e per quella che è la formula di questa coppa è importante essere lì, abbiamo tutte le chance per poter giocarci questa coppa fino in fondo ed è questo un aspetto assolutamente importante. Voltiamo pagina, parliamo adesso di calcio e partiamo da Lecce e dalla Serie A perché il club manager delle giovanili del club giallorosso Giovanni De Toma è intervenuto proprio negli studi di Antenna Sud sottolineando come l'arma in più di questo Lecce sia la propria mentalità. Qual è il segreto di questa squadra che comunque sembra non morire mai? Tante volte anche in questo campionato appunto, anzi soprattutto in questo campionato andando sotto per riuscire a recuperare. Sì, quello è frutto del lavoro quotidiano che fa l'allenatore e il suo staff a dare una mentalità ai ragazzi perché ogni anno cambiano, ogni anno c'è un gruppo nuovo però quando vedi quello spirito, quella voglia che hanno vuol dire che dietro c'è un lavoro di mentalità la mentalità te la costruisci quotidianamente ma te la dà lo staff tecnico chi lavora con te spesso tu assorbi come calciatore da chi ti sta intorno questo Lecce ha tanto della mentalità dello staff, del mister e chiaramente della società, del contorno. Come sottolineato dal club manager dell'Uslecce Giovanni De Toma, ospite della puntata di Ora Lecce i ragazzi di D'Aversa hanno assorbito tanto della mentalità del proprio allenatore e del suo staff ma ovviamente anche della società. Ecco quindi che a Udine lunedì la squadra andrà senza fare calcoli ma giocarsi la partita a viso aperto. Devi andare lì che hai preparato la settimana come sta facendo il Lecce, come fa tutte le settimane vai lì che hai preparato una strategia e quindi vai lì e giochi la partita come il Lecce penso che fino adesso ha sempre dimostrato di non avere paura di nessuno e ha sempre apportato il suo modo di essere, il suo modo di giocare quindi a Udine sarà la stessa cosa sicuramente io non vivo quotidianamente la realtà della prima squadra però la mentalità è quella lì saranno sicuramente preparando la partita di Udine con la massima attenzione. E in casa Bari intanto ci ha pensato Mattia Aramu a suonare la carica ad un paio di giorni dalla partita con il Modena. Adesso non ci sono più alibi, adesso tocca ai calciatori assumersi le proprie responsabilità per far tornare grande il Bari e questo è il messaggio che Mattia Aramu, senza dubbio il colpo in entrata più importante portato in consegna dalla sessione estiva di calciomercato lascia passare nella sua prima conferenza stampa da calciatore bianco-rosso parole le sue che sanno di chiamata alle armi in vista dell'ormai imminente ritorno in campo al San Nicola contro il Modena. Non è giusto però sappiamo che da destino avanti ci possiamo permettere pochi passi falsi e dobbiamo cominciare a fare qualche vittoria per migliorare la classifica sicuramente. I riflettori addosso sono piacevoli perché in una piazza del genere è giusto dimostrare il proprio valore per me come tanti altri e vogliamo fare solamente il bene del Bari per portarlo in alto. Abbiamo bisogno della vittoria in casa perché l'entusiasmo di questa città è davvero importante per noi i tifosi ci sostengono ed è sicuramente un vantaggio giocare in casa e dobbiamo trasformare il San Nicola nel nostro fortino perché i punti in casa sono quelli che dopo a fine campionato ti ritrovi a essere lì a lottare nelle prime posizioni. Ovvio che portare 50.000 spettatori ti parlo da giocatore del Bari e ti dico che è un grande aiuto e ti parlo pure da avversario che l'anno scorso quando siamo venuti qua a giocare col Gena che c'era un 55, mi ricordo 54.000 persone e ti assicuro che non è facile da avversario avere il coraggio di venire in uno stadio del genere a fare la partita quindi adesso che sono dall'altra parte ti dico che dobbiamo essere bravi noi a riportare quello entusiasmo che c'era l'anno scorso e sicuramente ripagarlo con le prestazioni importanti. Apriamo adesso la pagina dedicata alla Serie C partiamo dal Taranto dove Capuano è al momento alla ricerca delle giuste soluzioni per contrastare il Catania soprattutto a centrocampo si va comunque verso la conferma del 352 Settimana di lavoro un po' inedita per il Taranto i rosso-blu domenica saranno di scena a Catania ragion per cui la partenza verso la Sicilia è fissata per la giornata di venerdì subito dopo l'allenamento mattutino mentre la rifinitura del sabato si terrà direttamente nel corso del ritiro Capuano valuta le condizioni della squadra le defezioni eventuali sono tutte concentrate sul reparto offensivo visto che nell'ultimo turno erano assenti Fabro Orlando e Samele difficile stabilire chi potrebbe farcela e chi no ma è chiaro che eventualmente le alternative non mancano cresce a vista d'occhio l'intesa tra Cianci e Canutè entrambi già autori di tre reti e con il 352 visto all'opera contro il Crotone un buon apporto in fase offensiva lo hanno dato anche le mezzali su tutti Romano, Zonta e nei minuti conclusivi anche Fiorani di contro il tecnico non vuole concedere particolari spazi di manovra al Catania che gioca col 4-3-3 e avere gli stessi uomini degli etnei sulla linea mediana 3-3 può rappresentare un'ottima mossa per contrastare le loro iniziative in ogni caso di tempo per riflettere tatticamente ce n'è ancora E dopo il duro K.O. arrivato in casa contro il Sorrento la Virtus Franca Villa vuole riscattarsi in occasione del derby con il Monopoli Messo alle spalle il K.O. contro il Sorrento la Virtus Franca Villa rispolvera quel piano rilancio utilizzato dopo la falsa partenza con due sconfitte nelle prime altrettante giornate di campionato i cinque risultati utili consecutivi prima dello stop di domenica non sono ricordi sbiaditi ma piacevoli sensazioni da voler rivivere già a partire dal match in programma nella serata di venerdì allo stadio Veneziani di Monopoli Punto 1 ritorna Alberto Villa in panchina nonché una squadra di professionisti possa imputare la sconfitta col Sorrento all'assenza della sua guida tecnica a bordo campo ma quest'ultima si è rivelata preziosa nel guidare la linea del pressing dettare i tempi dei passaggi e consigliare le giocate ai suoi Punto 2 nel piano verso il ritorno a punti potrebbe esserci qualche novità nello scacchiere tattico avanti con il 3-4-2-1 e chiavi della manovra offensiva nelle mani di Giovinco e Artistico in difesa però a proposito di leader potrebbe rivedersi dal primo minuto Gavazzi al centro della retroguardia con Monte Agudo nel suo ruolo originario di Braccetto ristabilite le condizioni di Biondi uscito nel corso dell'intervallo della sfida contro il Sorrento ma regolarmente a disposizione per il derby restano da valutare invece le condizioni di Fornito il playmaker titolare ha saltato le ultime due partite il suo rientro potrebbe slittare ancora e l'allenatore della Virtus Franca Villa Alberto Villa parlerà questo pomeriggio in conferenza stampa la conferenza stampa invece del collega Tomei si è già tenuta pochi minuti fa quindi ascoltiamo un estratto delle sue parole l'avvicinamento alla partita è sempre diciamo abbastanza abbastanza sereno anche se fondamentalmente noi sappiamo che questa è una partita importantissima è una partita dove dobbiamo assolutamente portare la posta in palio a casa perché è quello che secondo me in questo momento può darci una grossa mano mistero inutile nasconderlo dopo l'esame con Ibericioni anche lei si gioca tantissimo nella partita contro la Virtus di domani ma prima di tutto mi dispiace per Alfio perché è una persona al di là del professionista è una persona alla quale io sono molto legato è una persona che ha dimostrato sempre grande professionalità e soprattutto grandissimo spessore umano quindi questa cosa a me dispiace tanto però purtroppo come hai detto già tu noi facciamo una professione dove questo rientra nel nostro nel nostro lavoro sappiamo prima che iniziamo a lavorare che può succedere questo non ce lo auguriamo però io dico sempre una cosa molto semplice l'importante è dare il massimo dopodiché nella vita a volte si raccoglie di più a volte si raccoglie di meno ma la cosa fondamentale è dare il massimo Alfio ha dato sempre il massimo per questa società per me per i giocatori per la proprietà per tutti e io faccio la stessa cosa dopodiché noi viviamo di risultati e questo è il nostro lavoro e prima di chiudere la pagina dedicata alla Serie C vi ricordo che la gara e il derby tra Monopoli e Virtus Franca Villa verrà trasmesso in diretta domani venerdì 20 ottobre alle ore 20.45 proprio su Antenna Sud ossia il canale 14 del Digitale Terrestre passiamo adesso alla Serie D perché si è giocata ieri il secondo turno di Coppa Italia di categoria e non sono bastati 90 minuti per decretare il vincitore di Fasano Casarano infatti il Casarano è riuscito a passare il turno successivo soltanto dopo la lotteria dei calci di rigore il Casarano rimonta il Fasano aggiudicandosi dopo la lotteria dei calci di rigore il passaggio al terzo turno di Coppa Italia Serie D al termine di un match tanto folle quanto divertente i padroni di casa cambiano quattro interpreti rispetto alla gara vinta in trasferta con la Gelbison domenica scorsa in mediana Cellezzi e non ganci sulla tre quarti Dos Santos a supporto di Renelus unica punta 3-4-3 invece per il Casarano con la terza che schiera il tridente Gionai, Perez, Falcone il primo squillo di giornata suona al decimo con Renelus che chiama Carotenuto alla rispinta passano pochi secondi e ci prova anche Bianchini trovando a sua volta la risposta dell'estremo difensore avversario al ventesimo si fa vivo il Casarano dalle parti di Lazar che risponde presente sul tiro di Perez al ventiduesimo protesteranno i padroni di casa per via di un presunto tocco con il braccio di Gionai in area di rigore non ravvisato però dal direttore di gara i biancazzurri della selva si portano in vantaggio al trentacinquesimo con Renelus che sfrutta un erroraccio della retroguardia rossazzurra sguscia via sull'out di destra ed insacca sotto le gambe di Carotenuto la rete dell'1-0 quattro minuti più tardi arriva anche il raddoppio fasanese con Calabria che sfrutta al meglio l'assist di Dos Santos e calcia dove il portiere avversario proprio non può arrivare sotto di due gol prove a reagire il Casarano ci prova Tiandum dalla distanza al quarantunesimo ma c'è la facile presa di Lazar con quest'ultimo che risponderà presente anche sul tentativo di Perez pochi istanti più tardi si va negli spogliatoi sul parziale di 2-0 nel secondo tempo il Casarano scende in campo con un piglio completamente diverso e dal nono riesce ad accorciare le distanze Perez sugli sviluppi di un calcio d'angolo il centravanti mesagnese trova la doppietta al minuto 18 sfruttando al meglio un assist di Ionai al trentottesimo il fasano conquista un calcio di rigore con Calabria che va giù dopo un fallo di Cerutti dagli 11 metri Ganci si lascia ipnotizzare da Carotenuto ma la palla sbatte prima sul palo e poi sui piedi di Ido Iaga che insacca in tapin il nuovo vantaggio biancazzurro il Casarano però non molla e nell'ultima azione della partita trova il 3-3 ancora con Leo Perez che a partita praticamente finita allunga la contesa e i calci di rigore ad aggiudicarsi la lotteria sono proprio i Salentini che nonostante gli errori di Cerutti e Citro riescono a strappare il pass per il turno successivo fra le file del Casarano hanno infatti sbagliato in tre Ido Iaga, Del Monte e Dorato 2-1 è invece finito l'altro derby di Coppa quello tra Fidelisandria e Bitonto decisive le reti di Martinez e Telera per quanto concerne i federiciani Gara vivace e con brividi finali tra Fidelisandria e Bitonto a passare il turno in Coppa Italia di Serie D sono però i ragazzi di Farina per 2-1 questo è il risultato del match del Degli Olivi formazioni, moduli speculari squadre in campo con il 4-3-3 di partenza partenza a razzo per gli uomini di Farina che al quinto passano subito in vantaggio con Martinez il numero 7 finalizza al termine di un'azione travolgente con scambi stretti e grazie alla collaborazione di Bursio e Bottalico grande occasione al ventunesimo anche per Schaudone scambio con Jefferson e conclusione a giro porta quasi sguarnita ma il pallone termina al lato Bitonto che aveva perso una palla sanguinosa ma ad ogni modo al ventitresimo i federiciani raddoppiano calcio d'angolo, gran palla di Bottalico per la testa di Telera che trafigge tra rolli 2-0 accusato il colpo i neroverdi provano comunque a rimettersi in partita al ventisettesimo ci prova Madiano palla alta sulla traversa al ventottesimo è la volta di Scardigno che però deve fare i conti con i riflessi di Fratti bella esteticamente la ripresa Andrea che spreca la rete del Tris il Bitonto è più aggressivo e cerca di diaprire i giochi al sessantacinquesimo ci prova Tedesco col piattone destro Fratti risponde presente al sessantasettesimo ripartenza Fidelis gran palla di Martinez che scorre in aria Mannesca Ringella e Nedonida concretizzano sotto porta al settantesimo risposta immediata con un tiro a giro di palazzo su assist di Tedesco Fratti devia salvataggio clamoroso della difesa del Bitonto al settantacinquesimo su Scardignella a porta sguarnita al settantaseiesimo vicino al gol anche Sceudone si arriva al recupero e al novantatreesimo il Bitonto trova la rete che accorcia le distanze con Tedesco palla che spiove in aria da punizione stacco di testa del 10 neroverde che trafigge Fratti brivido finale ma la sostanza non cambia e la Fidelis che passa la fase successiva Ed era il nostro ultimo servizio ha curato la parte tecnica di questo telegiornale Gianfranco Melillo grazie per la cortesa attenzione arrivederci grazie per la cortesa attenzione